Io sono l'unico mago al mondo che fa parire il pappagallo No, tra l'altro Tra l'altro per questa gustosa gag ho anche scomodato questo signore Glielo lascio, grazie Gliela restituisco, grazie Bene, ma ora devo darvi una notizia veramente bella Per me io sono il testimonial di due nuovi fantastici prodotti Mai più emergenza rifiuti Acquista Stop Moonets, il nuovo pratico sacchetto con micro-ingeneritore incorporato Inserisci il rifiuto da eliminare in Stop Moonets e attiva l'ingeneritore In pochi secondi il tuo rifiuto sarà sparito Conosci la Red Bull? Red Bull ti mette le ali It's my lollipop, lollipop, a lollipop, a lollipop Grazie 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 Grazie